Buongiorno a tutti e benvenuti in Solo Affitti On Air dalla nostra Solo Affitti Car e dal vostro manager dell'affitto. Da oggi riaprono ufficialmente le sedi di Solo Affitti Desio e Solo Affitti Limbiate e quindi da oggi potrete ricontrattarci nuovamente per la ricerca di immobili abitativi oppure non abitativi, quindi del settore business. Oppure potrete contattarci per la valutazione del vostro immobile e iniziare un percorso di locazione nella ricerca di un inquilino sicuro. Da oggi infatti riparte tutto il meccanismo delle nostre agenzie, sono già stati fissati degli appuntamenti di valutazione di nuovi immobili e presto troverete i set fotografici di questi immobili sui nostri social, quindi seguiteci attraverso i canali social Facebook per le nostre pagine oppure YouTube per i video oppure contattateci direttamente alle nostre agenzie. Io vi aspetto, vi auguro una buona giornata, un buon inizio lavorativo per quelli che ritornano sul posto di lavoro oppure una buona vacanza per chi ancora ha la fortuna di essere nel luogo di villeggiatura. A presto, ciao!